Allora, io mi chiamo Paolo Nori e mi hanno chiesto di venirvi a parlare dell'autofiction. Mi sentite bene? Io sento un po' di... mi sentite bene voi? Mi hanno chiesto di venirvi a parlare dell'autofiction. L'autofiction è... Io faccio fatica a dire cos'è e capirete perché. Io inizialmente la chiamavo autofiction perché questo nome io l'ho sentito per la prima volta collegato agli scrittori francesi viventi, il primo dei quali Emmanuel Carrère, che scrivono dei libri in cui il protagonista si può confondere con l'autore, e spesso i nomi coincidono, però sono consapevoli del fatto che raccontare una storia... cioè la storia che raccontano non è esattamente la storia della loro vita. Il primo libro che ho letto è appunto un libro di Carrère, che si chiama L'Avversario, nel quale lui racconta la vicenda di un... di un suo coetaneo che ha... più o meno, di uno che viveva in Francia e che ha ucciso... che per anni ha fatto finta di essere... cioè ha fatto finta di essere laureato in medicina, anche con la moglie, con i figli. Tutti i giorni usciva di casa e andava... dicendo che lavorava in un importante istituto in Svizzera, e in realtà andava a passeggiare per i boschi e millantava il fatto di avere accesso a dei tassi di finanza, cioè molto importanti, e quindi gli davano... i suoi amici gli davano in prestito i soldi, pensando che avrebbe restituito dei tassi, e lui viveva con quei soldi. E quando tutto questo castello è crollato, ha ucciso tutti, ha ucciso anche i propri figli. Cioè è una storia stupefacente e questa è una storia... io vi ho detto che è una storia di autofiction, perché il co-protagonista è Emmanuel Carrère, che entra in quel libro lì e che entra in rapporti con questo omicida, e che gli scrive... l'omicida dopo un po', dopo un'iniziale diffidenza, si... diciamo così, è d'accordo di... cioè gli racconta la propria vita, ecco, e accetta di scrivere... di raccontare a Carrère la propria vita in modo che Carrère ne faccia un romanzo. E ci sono degli altri autori. Un autore che mi piace molto, che scrive più o meno la stessa cosa, si chiama Gregoire Bouillet, e in italiano è stato pubblicato da ISBN, che è una casa editrice che voi probabilmente... quanti anni avete voi? Sono età varie, ma più o meno? Siete del... 2004? C'è qualcuno del 2004? Più vecchi? 2000? Ah, 2000, ok, quindi avete 23. E... no, vi ho chiesto 2004 perché è mia figlia, è del 2004. Ha 19 anni, ha cominciato quest'anno l'università. E... insomma, voi non l'avete vista, ma era una casa editrice... e lui ha pubblicato in italiano due romanzi, uno si chiama Rapporto su me stesso, in francese Rapport sur moi, ed è un libro stupefacente. E anche a me piace molto il coraggio di questo scrittore che ha pubblicato un romanzo con il titolo Rapporto su me stesso, che era un rapporto su di sé, una cosa... un'avventura, secondo me, che io in qualche modo ho condiviso. Io ho fatto un podcast di autofiction, che è uscito da poco, mi si chiama Due volte che sono morto, e dopo magari ne parliamo. Ma sull'autofiction in generale, mi viene da dire, quando i romanzi di Carrera hanno cominciato a circolare in Italia, è stata una scrittrice italiana, che si chiama Caterina Bombicini, che su Twitter, su questo social che... voi lo chiamate Twitter o X? Twitter. perché vedo che cominciano a chiamarlo X, ed è una cosa che mi fa un po' un'impressione. E su Twitter aveva scritto, oh che bella questa autofiction, ci sono degli scrittori italiani che la praticano? E io ho risposto, sì, Dante Alighieri. Perché se ci pensate, la Divina Commedia, o la vita nuova, cioè, è quella roba... ma io credo... io ho fatto un corso qui un paio d'anni fa, forse, sull'autofiction, e la cosa che è saltata fuori da quel corso lì è che è tutto autofiction. Perché io per esempio ho scritto, io ho pubblicato più di 40 libri, una trentina dei quali sono dei romanzi, e, diciamo, ammettiamo 30, 29 sono in prima persona, e il protagonista, uno è in terza persona, cioè ci sono vari personaggi, e quel romanzo lì, che si chiama Che dispiacere, è uscito una critica che diceva che forse quello lì è il mio romanzo più autobiografico, e secondo me non era sbagliata quella cosa lì. E' proprio... per esempio, io ho invitato due anni fa, abbiamo fatto un festival, anzi l'anno scorso, un festival a Parma, dove invitavamo degli scrittori, dei musicisti, così, a raccontare, gli scrittori, i libri della propria vita, i musicisti, le musica della propria vita, i fumettisti, i fumetti della propria vita, cioè, il momento in cui si sono innamorati di quella roba lì, cioè, in cui è scattata la passione per quello che poi è diventato il loro mestiere. E abbiamo invitato anche Manuel Carrer, ed è venuto, e lui ci ha detto, tra i libri, che, insomma, tra i suoi cinque libri più importanti, c'è un libro di... che si intitola... di Truman Capote, che si intitola A sangue freddo, che è la stessa cosa che ha fatto lui con l'avversario, fatta negli Stati Uniti per una strage insensata. Truman Capote, anche lui, è diventato amico dei due disgraziati che avevano ucciso una famiglia per niente, e anche lui ha... insomma, ha carpito, si è fatto... anche a lui hanno confessato dei particolari che hanno detto solo a lui, solo che Truman Capote, se voi leggete A sangue freddo, è un romanzo in terza persona. Cioè, è un libro dal quale Truman Capote si è tirato via. Cioè, ha fatto finta di non avere una parte, no? secondo me, però la parte ce l'aveva. E io sono un grande appassionato di letteratura russa, un appassionato di letteratura russa, cioè i libri, la maggior parte dei romanzi che ho letto, a me piace, a me piace leggere dei romanzi. Cioè, se devo dire, no? E la maggior parte dei libri che ho letto sono romanzi, e la maggior parte dei romanzi che ho letto sono, e riletto, sono russi. uno dei grandi scrittori russi dell'Ottocento è Talstoi che ha scritto quasi solo delle robe in terza persona, no? Il Guerra e Pace, Anna Carieni. C'è un grande studioso di Talstoi che si chiama Viktor Shklovsky che dice che comparando le opere e i diari di Talstoi ha dimostrato che le cose che ossessionavano i suoi turbamenti, le sue domande. Lui le distribuisce a tutti i personaggi, sia i personaggi maschili che i personaggi femminili. Cioè, anche Guerra e Pace è, secondo Shklovsky e secondo me un romanzo di autofiction e anche Anna Carieni. C'è questa differenza quattro, quello che viene, secondo me, io faccio fatica a tracciare una linea e la cosa, e arrivo a dire che secondo me la cosa importante non è che cosa si scrive, di cosa si parla, ma è come se ne scrive e come se ne parla. Quando pubblicherete un romanzo, quelli di voi che vogliono scrivere un romanzo, vi chiederanno quando uscirà di cosa parla questo romanzo, è la domanda più difficile che vi possano fare. Perché il romanzo parla di tutte le cose, sono dei romanzi che parlano soprattutto delle cose di cui non parlano. Per esempio, Il buon soldato Schweik, che è un grande romanzo antimilitarista, dove Ashek, che è uno scrittore cieco degli inizi del secolo scorso, scrive questo romanzo dove c'è un soldato, un cieco, alla scoppio della prima guerra mondiale, che è uno, un disgraziato, che si chiama appunto Schweik, che di mestiere lui vende dei cani di razza finti, cioè lui prende dei bastardi, li trucca da cani di razza, gli fa dei finti pedigree e poi li vende. Questo qua è uno che è un idiota, ha proprio il certificato da idiota. E quando lo scoppia la prima guerra mondiale, lui va al distretto militare col certificato che è un idiota. E non lo, non ci credono, credono che sia una, che anche quella lì sia una cosa finta e lo mandano in guerra e lui in guerra ne combina, cioè fa dei disastri, ecco, e tutte le volte che fa un disastro il suo tenente gli dice sei un idiota, Schweik, e lui dice faccio rispettosamente notare che sono un idiota, signor tenente. E questo personaggio qua, questo idiota conclamato e meraviglioso distrugge la macchina bellica e quello è forse è il romanzo più antimilitarista che ho letto io. Questa roba qua dentro il romanzo non c'è scritta, cioè Schweik non dice mai che la guerra è orribile e se lo dicesse non ci sarebbe bisogno di scrivere, per fortuna non lo dice ma ce lo fa vedere continuamente. E quella roba lì di far vedere una cosa è una cosa che nella io poi c'è in tutte le letterature e nella letteratura russa è particolarmente evidente e allora io vi chiederei una cosa se ci sono delle cose che dico che non capite alzate la mano in qualsiasi momento e mi chiedete organizziamo questa cosa e facciamo abbiamo un'ora e mezzo di tempo e io parlerò adesso non so per quanto però fino diciamo a mezzogiorno e dopo se ci sono delle domande però anche se avete delle domande prima va bene lo stesso allora io vorrei leggervi tre cose sono tratte da un libro che non è un libro di narrativa io vorrei leggervi se trovassi gli occhiali da lì Non è, dicevo, un libro di narrativa, è un repertorio, è un repertorio di testamenti, cioè si chiama, essendo capace di intendere e di volere, l'ha compilato un notaio napoletano che si chiama Salvatore De Matteis e sono testamenti olografi. Io quando ho letto questo libro qua, è pubblicato da Sellerio, è stato pubblicato tanti anni fa ma è continuamente ristampato, quando ho letto questo libro qua ho capito cosa sono i testamenti olografi, cioè sono testamenti scritti di pugno dal testata, da quello che pensa di dover morire e se viene dimostrato che è stato veramente lui a scrivere questo, non c'è bisogno di andare dal notaio. Cioè quei testamenti hanno un valore legale anche senza un attestato notarile. E quindi essendo testamenti che hanno delle conseguenze legali vanno conservati, ci sono dei repertori che contengono sia i testamenti, diciamo quelli ufficiali notarili, che questi testamenti olografi. Questo notaio napoletano che si chiama Salvatore De Matteis ne ha fatto un'antologia, sono testamenti appunto napoletani, andrebbero letti la maggior parte con un accento napoletano che io come capite bene non ho, però li leggo io. E lui ha messo anche dei titoli che ovviamente nei testamenti non c'erano e il primo si intitola Spiacente di avervi conosciuto e fa così. Ho scritto questo mio testamento la notte del 23 aprile 1954 alle ore 01, cioè praticamente il giorno 24 aprile 1954 mentre ero in servizio in clinica. Credo che questa data è significativa perché coincide col mio onomastico. Per la speciale ricorrenza di cui mai una volta vi siete ricordati ho deciso di fare io a voi un regalo, vi comunico di avervi diseredato. Ho infatti alienato gradualmente il mio patrimonio immobiliare e donato il denaro che ne ho ricavato. Mi auguro di avere tempo e abilità sufficiente per sottrarvi ciò che resta. Nel caso tuttavia che mi sopravvivessero dei beni ne nomino beneficiari alla clinica, sperando che conoscendo i nostri reciproci sentimenti abbiate l'orgoglio e il buon gusto di non impugnare il presente testamento. Siete dunque sull'astrico e da qualche anno vivete al di sopra delle vostre possibilità. Quando ne sarete informati sarà tardi per ogni rimedio e avrete finalmente un buon motivo per portarmi rancore per tutto il resto della vostra vita. Spiacente di avervi conosciuto, mi auguro di non rivedervi mai più. Ecco questo è uno dei testi più cattivi che io abbia letto in vita mia. Cioè quando gli dice siete dunque sull'astrico e vivete da anni al di sopra delle vostre possibilità, io mi immagino le facce dei suoi parenti quando un notai dopo che è morto ha letto questo testamento. Secondo testamento è un po' più napoletano e si intitola Se morirebbe prima mia moglie e fa così. Testamento di me è medesimo, malato, lucido di mente, scritto a mano contro mia moglie Maria Cannavaciuolo, maritata buonomo Gennaro che sarei io. Se morirebbe prima mia moglie di me sarei grato a San Gennaro, a ceri e fiori, fino a che campo? Ma lei si è sempre curata bene e schiatta di salute alla faccia mia che non c'è speranza, io credo. Approfitto della controla che sta strabaccata sopra il letto per scrivere nascostamente su carta tipo igienica il mio lascito testamento di robe poche ma stentate, con sudore della fronte per tutta una vita onesta ma sfortunata, che se si sveglia sono mazzate. Non avendo la infamona fatti i figli perché arida di panze e di cuore, lascio il basso di abitazione a mio nipote liberato, figlio di mio fratello Vittorino. A mia nipote Itala, sempre figlia di Vittorino, lascio per dote la mobiglia con la biancheria di corretto, l'anello mio, la catenina e il cornicello della buonanima del nonno. Non c'ho altro. Quando sarò morto dovete cercare il mio testamento qui presente dietro l'armadio. Se non lo cercate dietro l'armadio non lo trovate e allora è inutile che lo cercate. Ecco, quest'ultima frase per me è un capolavoro. Se non lo cercate dietro l'armadio non lo trovate e allora è inutile che lo cercate. Se insegnassi logica, darei una tesi di logica sulla spiegazione di questa frase qua. L'ultimo che vi leggo sono i primi tre. Il libro è bellissimo. Sendo capace di intendere e di volere. Salvatore De Matteis di Sellerio. Si intitola Se no basta il pensiero, l'ultimo, e fa così. In nome di Dio che mi assiste nella verità. Soltanto oggi, deluso e amareggiato per il comportamento disamorato di mia moglie, la quale mi ha lasciato pur sapendo le condizioni di salute in cui mi trovo, in piena facoltà e in pieno ferragosto, esprimo la mia sacra volontà testamentaria mai espressa prima d'ora. A mia moglie non lascio niente, nemmeno le impronte su questo foglio che non sono lacrime ma gocce di sudore. La legge si dispone diversamente e si assume la responsabilità di contrariarmi nel giusto. Veramente io non so che resta, dopo gli scilacquamenti della predetta, ma se resta qualcosa, nomino erede universale mia nipote. Se no, basta il pensiero. E così sia. Allora, in quel pezzo qua c'è quel punto in cui dice, in piena facoltà e in pieno ferragosto, che a me, cioè lui cerca di assumere un gergo notarile, e mi piace molto quando gli preme sottolineare il fatto che le macchie sul foglio non sono lacrime ma gocce di sudore, cioè che lui non sta male per quella infamone. Allora, questi sono tre testi che io trovo bellissimi, però sono testi che sono dei piccoli capolavori, secondo me, come dentro quel libro lì sono parecchi. Però sono testi che non sono stati scritti per produrre delle cose belle. Cioè non sono dei testi letterari, sono dei testi che... E io quando... La domanda che mi faccio e che vi faccio è da cosa sono fatti questi testi? Cioè quali sono gli ingredienti che hanno permesso a questi tre signori, che non sono degli scrittori, di scrivere una cosa che si ripubblica da decenni e che adesso non so se magari a voi non piace, ma che io trovo stupefacente. Ecco, per la... Sono dei piccoli... Cioè se uno di noi volesse costruire un testamento come questo, cioè si farebbe veramente fatica. E quali sono, qual è, quali sono gli ingredienti, quali sono i sentimenti che hanno portato questi signori a scrivere questa roba qua? Domanda difficile. Io ho una risposta che non è necessariamente... Allora, intanto, io ho sempre... Io ho cominciato a scrivere nel 96, nel 96, sì. E io sono del 63, ho compiuto quest'anno 60 anni. E nel 96 avevo 33 anni. A me piace... Fin da quando sono piccolo, scrivere, cioè leggere, è la cosa che mi piace di più. e fin da quando avevo otto anni, credo, io pensavo che avrei scritto un libro. E mi dicevo, non mi mettevo a scrivere subito, perché... In realtà mi sono messo a scrivere subito. A otto anni ho scritto una... E mi ricordo ancora... Mia mamma lavorava... Aveva un diploma da ragioniera, mio babbo aveva un'impresa edile, e mia mamma lavorava nell'impresa di mio babbo e sapeva battere a macchina con dieci dita. Molto bene. E io ho cominciato a scrivere sto libro e l'ho dato... Ho dato il foglio su cui l'avevo scritto a mia mamma che l'aveva battuto su un cartoncino azzurro. E... E io mi ricordo... L'orgoglio che avevo... Avevo otto anni. E questo libro cominciava... Era la storia di uno che per una scommessa doveva fare il giro del mondo con il suo servitore. Io ho appena letto Il giro del mondo in 80 giorni di Giulio Verdi. Qualcuno di voi l'ha letto? Ah, che bravo. Che bravo, cioè... Qualcuno l'ha letto. Quindi non siamo in due mondi completamente diversi. E raccontavo quella storia. Cioè mi sembrava che un romanzo dovesse per forza parlare di uno che faceva il giro del mondo. Perché ero un coglione, come sono ancora adesso, ecco. Però, no, questa cosa qua, a me sembra, da questa cosa che mi sono ricordato... Mi sembra che noi possiamo scrivere quello che abbiamo letto. Cioè che la vastità delle nostre possibilità narrative dipende dal diametro di quello che abbiamo letto. È come un bicchiere capovolto. Io allora ero dentro, come scrittore, un bicchierino il cui diametro era al giro del mondo in 80 giorni. Che è probabilmente il primo romanzo che ho letto. e poi più, più... E anche per questo, quando io ho cominciato... Allora, nel 90... Io per anni mi sono detto scriverò un libro. Quel libro lì l'ho interrotto perché mio nonno era in casa e era quello che leggeva. Io ho cominciato a leggere sui libri di mio nonno Gaspare e lui quando... Io andavo in giro con tutto... Ero così fiero facevo vedere sto foglio e mio nonno mi ha chiesto ma sai come va a finire? E io non volevo che finisse come il libro... Cioè qualcosa volevo cambiare. I nomi erano diversi poi questi erano italiani non erano francesi e gli ho detto no. E lui mi ha detto è allora... E io ho smesso di scrivere. Cioè quel... È allora... che ha provocato il fatto che io dagli 8 ai 33 anni non ho più cominciato un romanzo. E non ho cominciato un romanzo perché mi dicevo scriverò una cosa quando avrò una storia. Ecco questa... Sia la cosa di mio nonno che mi ha detto è allora che l'idea che per scrivere ci voglia una storia... Cioè per scrivere ci vuole una storia ma anche una non storia intanto. Per esempio sono delle cose... Io il primo... Il secondo libro che ho pubblicato si chiama Bassotuba non c'è. Io mi sono trasferito a Parma nel 99 a Bologna scusate nel 99 sono nato a Parma e nel 99 sono conosciuto una ragazza siamo andati a abitare insieme e nel 99 ho conosciuto un po' di gente che era lì a Bologna e un ragazzo che si chiama Giacomo siccome mi conosceva ha letto questo Bassotuba non c'è e mi ha detto una cosa che mi è... che me la ricordo e mi ha detto che aveva letto il mio romanzo e che... e che... gli era piaciuto abbastanza che però lo trovava un romanzo stranissimo cioè come... e che era... secondo lui era il contrario dei romanzi d'avventura tipo i tre moschettieri no? che qualcuno di voi ha letto i tre moschettieri? qualcuno si? avete idea di cosa sia i tre moschettieri? che nei tre moschettieri mi ha detto Giacomo continuamente ci sono dei duelli delle agnizioni dei furti e te volti le pagine perché vuoi vedere che cos'altro succede nel tuo romanzo mi ha detto Giacomo te volti le pagine perché vuoi vedere se finalmente succede qualcosa ecco questa roba qua io non so se Giacomo intendesse ma io l'ho presa come un compito perché la cosa difficile da costruire per uno che scrive un romanzo è far voltare le pagine a quello che... cioè costruire una cosa che faccia sì che quello che legge è costretto a voltare che questa cosa sia fondata sul tutto come i tre moschettieri o come il giro del mondo in 80 giorni o sul niente come Basso Tuba non c'è o come senza fare dei paragoni la coscienza di Zeno cosa succede nella coscienza di Zeno? che uno non riesce a smettere di fumare cioè succede che... oppure inaspettando Godot cosa succede inaspettando Godot? che Godot non arriva cioè la negazione di una cosa non succede niente ma è un niente così bello così... cioè non è tanto importante quello che sì o non si racconta ma la cosa veramente difficile è come la si racconta e quello che io mi dicevo nella mia testa scriverò quando avrò una storia erano scuse era paura mettersi a scrivere è una cosa che ci vuole del coraggio perché se tu ti dici io prima o poi prima o poi scriverò un romanzo è una cosa confortante cioè no? tu in un futuro avrai il piacere di scrivere un romanzo farai la cosa che veramente ti piace se tu ti metti a scriverlo dalle cose che hai scritto possono saltare fuori anche le cose cioè dei dispiaceri saltano fuori sicuramente anche dei dispiaceri quindi io faccio i complimenti a quelli di voi di voi che hanno io credo che perché non so bene ma non tutti voi scrivete cioè qualcuno fa l'editor immagino gli anni scorsi nelle classi con cui ho avuto a che fare io era così invece o qua siete tutti cioè scrittori qualcuno di voi non vuole scrivere un romanzo quindi a te non ti faccio i complimenti a quelli invece che hanno no scherzo cioè cosa vuoi fare tu? anche questa anche questa è una cosa io i libri per esempio questo libro qua nella mia testa è un romanzo questa raccolta di perché io un romanzo lo chiamo un libro che uno legge volentieri dall'inizio alla fine esercizi di stile per esempio di che no per me è un romanzo straordinario ed è sempre la stessa storia sapete no? riscritta la stessa storia del cazzo diciamo riscritta in 99 modi diversi ed è è un libro stupefacente e vabbè e la cosa che quando quindi ci ho messo un sacco di tempo e perché perché ho cominciato ho cominciato nel 96 io ero mi ero laureato io avevo lavorato un po' all'estero in Algeria in Iraq ho un diploma da ragioniere e poi sono tornato all'Iraq avevo dei soldi ho deciso di fare l'università mi sono iscritto a lingue ho studiato lingue alla fine finita l'università quello è stato il periodo più brutto della mia vita perché io far l'università è stato bellissimo cioè io ero ero veramente appassionato come sono ancora adesso e tutto il giorno facevo solo le cose che mi piacevano come faccio anche adesso però allora era cioè era un momento e ho finito ero entusiasta della tesi che ho fatto e mi sono accorto che mi sembrava di aver imparato un sacco di cose sui futuristi russi sulla poesia su su cosa si scrive su come si scrive e sono uscito con un grande e mi sono accorto che queste cose che sapevo o che credevo di sapere alla gente non gliene fregava niente cioè proprio io mi ricordo dei pomeriggi steso sul letto a guardare il soffitto che mi sarei ammazzato invece di ammazzarmi ho deciso di tornare all'estero a lavorare sono andato in Francia ho richiamato la mia vecchia ditta il mio dirigente aveva cambiato ditta in realtà e sono andato in Francia a NIM a lavorare per una joint venture franco-italiana che che posava un metanodotto cioè facevamo un buco ci mettevamo dentro un tubo dentro il quale scorreva del gas metano e ricoprivamo il buco cioè io facevo responsabile amministrativo stato lì quattro mesi non ho letto un libro lavoravo quattordici ore al giorno e un mattino mi sono svegliato e mi sono chiesto ma te coglione che passione hai per i tubi e per il gas metano e mi sono risposto nessuna allora sono andato dal capocantiere e gli ho consegnato le mie dimissioni e ho deciso mi sono dato dieci giorni per decidere cosa fare e ho detto proviamo ero così disperato avevo già 33 anni ero già grande non avevo combinato niente ed ero così disperato che ho trovato dentro di me il coraggio di dirmi proviamo a far diventare a fare una cosa che mi piace cioè a far diventare la mia passione un mestiere avevo un po' di soldi perché all'estero si guadagna abbastanza bene ho cominciato sono tornato in Italia facevo il traduttore e l'interprete da e per il russo e mi sono dato due anni di tempo e tutti i giorni la cosa più importante per me era scrivere e ho cominciato a scrivere che non sapevo cosa scrivere non avevo idea di cosa avrei scritto ma mi mettevo lì tutti i giorni due ore al giorno c'è Padre Bianchi che credo voi conosciate una volta l'ho sentito per radio c'era una trasmissione bellissima che c'è ancora ma non è bellissima come era quando l'ascoltavo io si chiama Uomini e Profeti e una volta hanno intervistato Padre Bianchi e gli hanno chiesto se lui pregava tutti i giorni e lui ha risposto esistono solo le cose che si fanno tutti i giorni e secondo me c'ha ragione e io questa cosa qua che io faccio tutti i giorni dal 96 esiste cioè la mia relazione con la scrittura al di là di tutto è una cosa che esiste è una cosa senza la quale io proprio sarei la natura dei miei tessuti sarebbe diversa io sarei proprio un'altra persona e la forza che mi ha fatto prendere questa decisione che mi ha fatto trovare il coraggio mi prendevano per il culo i miei amici e quando sono tornato in Italia mi chiedevano cosa vuoi fare lo scrittore e mi dicevano ce l'hai un editore e io pensavo prendetemi prendetemi per il culo vediamo e ero veramente bisognava spararmi per farmi smettere di scrivere ero veramente e ho cominciato e la forza che mi ha dato è la disperazione io quando qualche anno fa hanno il governo che c'era ha abolito la povertà vi ricordate? c'è stato quando hanno messo il reddito di cittadinanza sono andati poi su un balcone e hanno detto abbiamo abolito la povertà e io ho scritto non abolite la disperazione per cortesia che mi serve perché se mi tolgono la disperazione io non valgo niente quella roba e questi scritti qua secondo me la prima cosa è la disperazione il primo ingrediente di questi scritti meravigliosi il secondo è l'urgenza questi signori qua stanno per morire o hanno l'impressione e la cosa che hanno scritto non è una cosa così cioè non è bello stile è urgente quella roba lì e a me succede io non lo so perché forse in tanti io quando devo scrivere un romano io sono molto pigro e quindi ho bisogno di scadenze ho bisogno e io mi adesso sto scrivendo un libro mi sono ridotto all'ultimo come sempre e devo consegnarlo entro fine mese e ho fatto una scaletta per cui le cento cartelle che devo consegnare il 20 di novembre più o meno devo scrivere cinque pagine al giorno grosso modo e è un libro sul museo russo di san pietroburgo che è un posto che più o meno conosco insomma poi ci sono stato ho tanto materiale la cosa difficile c'è una cosa che diceva io ho una ho fondato a Bologna una scuola che è un po' minimamente concorrente la scuola Olden si chiama scuola Carienin per una cosa che dopo vi dico e faccio un corso dove si scrive un romanzo in un anno chi partecipa a questo corso prende di pena di scrivere un romanzo e il corso si intitola trovare la sedia e viene da una cosa che ha detto Bukowski Charles Bukowski è per me un grande scrittore io non l'ho letto per tanti anni perché pensavo che fosse un pornografo dopo ho cominciato a leggere uno scrittore straordinario che ha un senso del ritmo fantastico a me piace molto e una volta gli hanno chiesto cosa ci vuole per scrivere e lui ha risposto per scrivere ci vogliono due cose una macchina da scrivere e una sedia delle volte è difficile è trovare la sedia aggiunto ecco quel corso lì si intitola trovare la sedia e questa cosa qua di trovare la sedia tutti i giorni è veramente la cosa più difficile cioè al di là c'è il talento c'è un sacco di roba ma al di là di quello la vostra convinzione cioè quanto volete fare questa cosa qua mi sembra di essere un motivatore di quelli che vi vogliono vendere delle robe ma è veramente così sembra una stupidata ma quella lì è perché poi se prendiamo i romanzi italiani contemporanei c'è di tutto ci sono delle cose ci sono dei successi grossi anche di cose che a me non piace c'è il gusto e poi una cosa secondaria ma davvero è quanto siete convinti dopo c'è una una cosa difficile per me ai tempi era capire se le cose che scrivevo erano belle o non erano belle e avevo i primi tempi le facevo leggere a dei miei conoscenti e tutti mi dicevano che erano belle anche la mia fidanzata di allora mi diceva bellissima e io però avevo il dubbio che me lo dicessero per togliermi così non rompevo più i coglioni e una volta la mia fidanzata di allora si chiamava Erika mi ha detto che una cosa era bellissima dopo due settimane le ho fatto leggere un'altra cosa e lei mi ha detto hai fatto dei grandi progressi come ho fatto dei grandi progressi era bellissima cioè come ho fatto cosa ho scritto il premio Nobel cioè cosa è successo e lei però lei faceva delle cose vabbè lasciamo perdere però lavorava in un posto dove facevano una rivista e la relazione allora la prima conseguenza del fatto di mettermi a scrivere per me è stato che ho cominciato a leggere la letteratura italiana contemporanea io credevo di conoscerla credevo di essere una persona a cuore io conoscevo io conosco meglio la letteratura russa di quella italiana fino agli anni 70 dopo avendo cominciato a scrivere ho fatto un periodo che non leggevo praticamente altro ed è e ho letto anche cose ho smesso di leggere per piacere e ho cominciato a leggere per capire come erano fatte quelle cose lì non per provare piacere ma ho letto anche dei romanzi che non avrei mai letto ma perché il problema di scrivere un romanzo che era la cosa che volevo io è farlo stare in piedi cioè come fai a fare stare in piedi una narrazione come fai a far voltare la pagina al lettore era un problema grosso e io lì io avevo all'inizio avevo un problema anche sulle cose che scrivevo all'inizio non mi piacevano neanche a me io ho pubblicato il terzo romanzo i primi due per fortuna non li ho pubblicati perché non è io non avevo mai scritto un romanzo il primo ci ho messo un mese a scriverlo e l'ho dato al premio Calvino ho approfittato della scadenza del premio Calvino per scrivere una cosa non l'hanno selezionato ma ho fatto bene il secondo ci ho messo un anno e siamo andati vicini a pubblicarlo e alla fine di quel secondo ho trovato una voce che poi è diciamo è uscita nel terzo e negli altri successivi e non mi ricordo più cosa stavo dicendo perché sto raccontando mi succede succederà anche a voi quando avrete 60 anni e non mi ricordo cosa stavo dicendo da dove siamo partiti ah ho capito no 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 sì grazie no mi è venuto in mente allora come si fa a risolvere questo problema se le cose che scrivi sono belle o non sono belle questa ragazza mi ha fatto ha dato le mie cose lei stampava i miei curricula e li mandava io non volevo io volevo a me io volevo fare lo scrittore lei non aveva nessuna fiducia sul fatto che io avrei fatto lo scrittore e mandava i miei curricula alla Ferrara io ricevo delle lettere delle ditte che mi dicevano ci dispiace ma nel nostro organico non è e io non avevo scritto niente e rispondevo a tutti dicendo guardi io non vi ho chiesto niente cancellate il mio nome dal vostro archivio perché e però mi ha mandato delle cose che avevo scritto io ho cominciato la prima cosa che ho scritto è stato un viaggio in Russia io ho fatto un viaggio in Russia in macchina da Parma a San Pietroburgo su una due cavalli da solo nel 1995 e era così bello quel viaggio lì che mi sono messo a scriverlo anche se ancora non ne avevo deciso e poi ho ripreso quegli appunti lì ed è stata lei ha mandato questa roba qua queste dieci pagine alla redazione della rivista quella rivista lì si chiamava Il Semplice al manacco delle prose lo faceva Feltrinelli c'erano Celati Cavazzoni e altri che poi hanno pubblicato Ugo Cornia Daniele Benati e mi hanno invitato a una riunione di questa rivista alla riunione di questa rivista hanno risposto alla mia domanda come si fa a sapere se una cosa è bella se la cosa che ho scritto è bella oppure no perché tutti quelli che volevano pubblicare in quella rivista loro chiedevano di leggere ad alta voce il pezzo che volevano pubblicare davanti alla redazione che era composta da 20 persone e lì io non ci avevo mai pensato ma se voi leggete ad alta voce una cosa che funziona una cosa bella la cosa diventa ancora più bella cioè la gente il pubblico quelli che ascoltano anche solo 5 o 6 persone è come se respirassero all'unisono con quello che legge diventano e a me è successo diverse volte di sentirmi un'unica bestia insieme alle mille persone che erano sotto il palco io andavo a un fantastico festival di poesia in Sardegna a Seneghe e c'era non era sempre così ma c'erano delle serate che che davvero si scatenava qualcosa che noi diventavamo un'unica bestia se invece leggete una cosa che non funziona che è brutta per semplificare quella cosa lì diventa ancora più brutta cioè la gente che vi ascolta comincia ciascuno ad andare per conto a cercarsi nelle tasche a guardare il telefono all'epoca non c'era ma insomma si scatena una forza centrifuga che è evidente che quella roba lì letta mentalmente no ma letta ad alta voce è evidente che quella roba lì non funziona e io lì io sono molto timido anche e lì non ho detto ho guardato e basta poi sono tornato a casa e da solo ho cominciato a leggere ad alta voce le cose che scrive e mi sono accorto di una cosa cioè che io dentro quella roba lì quegli scritti lì non so neanche come chiamarli io non ero convinto del valore narrativo di quello che scrivevo e quindi ogni tanto ci mettevo una parola desueta che si capisse cioè che magari però che si capisse che io ero uno che aveva studiato che ero laureato una parola colta e la prima cosa che ho fatto è togliere quelle parole colte e questa roba poi cioè perché invece di aiutare il racconto era una specie di ostentazione e anche questa è una delle prime cose che mi sembra avere capito cioè che non c'è bisogno cioè anche lì come si scrive non vuol dire che scrivendo in una lingua colta le cose siano buone o né scrivendo in una lingua bassa cioè è complicatissimo l'equilibrio però nella nella nostra io insisto un po' su questa cosa del del parlare come come dello scrivere come si parla perché mi sembra che adesso col passare del tempo siamo sempre più vicini cioè andiamo in quella direzione lì ecco anche nei romanzi però nella editoria italiana c'è un po' di 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 fidenza ecco rispetto alle scritture a delle scritture non e per esempio c'è Giuseppe Culicchia una volta appunto alla fine degli anni 90 aveva una rubrica sulla stampa cioè tutto libri che credo esca ancora che è un insetto dei libri della stampa che all'epoca era praticamente l'unico e lui aveva una rubrica e una volta ha raccontato una cosa che a me mi ha fatto impressione cioè che che lui aveva tradotto American Psycho di Bret Easton Ellis e era la seconda traduzione italiana e nel tradurre questo romanzo sapete di cosa Bret Easton Ellis American Psycho c'è stato anche un film e nel tradurre American Psycho lui era andato a vedere la traduzione precedente e nella prima pagina del romanzo dell'originale c'è tre volte la parola bus che lui Culicchia ha tradotto tre volte autobus nella prima traduzione la prima occorrenza c'era scritto autobus la seconda corriera la terza torpedone allora il lettore italiano faceva molta fatica a capire che quel torpedone lì che c'era alla fine della pagina era lo stesso autobus che c'era all'inizio che si era misteriosamente trasformato a metà pagina in corriera che corriera e autobus sono due cose che hanno due funzioni diverse sono fatti in modo diverso perché fanno delle cose diverse la corriera per i viaggi lunghi gli autobus è in città ha gli appositi sostegni ai quali ti devi aggrappare che la corriera non ce l'ha perché stai seduto e quando ho letto questa cosa qua mi sono chiesto ma perché quel traduttore lì torpedone io non so cosa sia non so se qualcuno di voi mi può aiutare ma io torpedone l'ho solo incontrato nelle traduzioni dei fumetti di Charlie Brown che era lo scuola bus lo chiamavano così io ho raccontato questa cosa a Bologna a una persona che ho visto solo quella volta lì e deve essere una persona in gamba perché mi ha detto una cosa che me la ricordo ancora mi ha detto se io incontro torpedone dentro un romanzo ho l'impressione che sia successo qualcosa di brutto secondo me c'è ragione cioè è una parola che metti in agitazione in che senso torpedone ti vengo a dire no era nell'originale era autobus bus autobus perché devi perché quel traduttore lì ha fatto così perché secondo voi perché era andato a scuola e a scuola cosa gli dicevano cosa ci hanno detto quando facevamo i temi non fate le ripetizioni ma usate dei sinonimi no a parte che Corriera non è sinonimo di autobus ma a scuola questa cosa ha un senso perché può avere un senso è lo strumento attraverso quale l'insegnante capisce il bagaglio lessicale dell'alunno ma Bretis Tonellis che bisogna è tant'è vero che lui usa una sola parola no usa solo autobus usa solo bus non ha nessun bisogno di 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 e c'è un altro esempio che mi viene in mente quando quando parlo di queste cose qua ed è un racconto di Beckett che che un mio amico si chiama Daniele Benati che è un bravissimo traduttore dal dall'inglese lui è appassionato di letteratura irlandese ha tradotto Gente di Dublino di Joyce per Feltrinelli ha tradotto La miseria in bocca di Flanno Bryan sempre per Feltrinelli e una volta gli è venuta voglia di tradurre un racconto di Beckett che si chiama in come in italiano da una narrazione interrotta e lui ha cominciato a tradurlo e ha smesso perché l'inglese di Beckett andava ai 100 all'ora e il suo italiano faceva ai 30 cioè era proprio difficile e allora ha smesso poi dopo gli è venuto in mente di tradurlo in dialetto reggiano lui è di Reggio Emilia e l'ha tradotto in dialetto reggiano ed è un racconto fantastico cioè io l'ho sentito due volte letto da lui in reggiano e Beckett per me è nel come dire è un grande scrittore nella mia testa è nell'Olimpo dei grandi della letteratura e sentito in dialetto reggiano sembrava un mio compagno di banco cioè lui me l'ha messo faceva ridere faceva arrabbiare era veramente una traduzione esemplare per quanto io non capisca benissimo il dialetto reggiano allora in quel racconto lì di di Beckett all'inizio c'è una frase I was feeling awful scusate il mio inglese che Daniele quella frase qua la va tradotta a Steva Mel che si capisce anche stavo male e c'è un traduttore italiano che va tradotto in italiano quel racconto lì di Beckett prima che Daniele lo traduzcesse in dialetto reggiano e quella frase lì l'aveva tradotta così avevo una tarantola di inquietudini in petto quando Daniele mi ha raccontato questa storia io mi sono chiesto cosa ha pensato quel traduttore e mi sono risposto secondo me ha pensato Beckett ha preso il Nobel non può scrivere stavo male stavo male siamo capaci tutti di scriverlo Beckett gli ha dato il Nobel deve scrivere qualcosa di e si è inventato questa tarantola di inquietudini in petto che in un tema di terza media è una cosa che fa un grande avevo una tocca bravo cioè otto nove solo che i personaggi di Beckett sono dei barboni vivono sulle panchie è della gente che non sa dove andare a dormire non sa come fare a mangiare non hanno le tarantole di inquietudini in petto stanno male e a Beckett gli ha dato il Nobel probabilmente anche perché è riuscito a fare parlare dei personaggi con la loro voce non con la propria senza bisogno perché è riuscito a fare delle cose memorabili in una lingua uno dei libri più belli che ho letto in questi anni da quando ho cominciato a scrivere una delle scoperte più belle è la trilogia della città di K di Agota Christophe soprattutto il primo libro il journal in francese Agota Christophe era l'ha scritto in francese che era una lingua che non sapeva non sapeva bene e si è inventata due personaggi che vanno in un paese del quale non sanno bene due bambini e la lingua deforme di questi due personaggi la lingua orribile a un certo punto loro la studiano sul dizionario a un certo punto c'è un un commerciante di quella città che chiede a questi due gemelli ma come parlate ma fate impressione e Agota Christophe ha fatto di questa sua debolezza del fatto che non avesse che non conoscesse benissimo una una forza Beckett Anna Tandon Godot l'ha scritto in francese perché era una lingua che non conosceva bene gli serviva avere questa difficoltà e dopo mi dice Daniele che l'ha studiato quando si è rimesso a scrivere in inglese ha molto semplificato adesso non è un valore cioè io non dico che bisogna scrivere in una lingua semplice sono scrittori Giorgio Manganelli uno straordinario scrittore italiano che scrive in una lingua straordinaria ma Giorgio Manganelli non lo fa è complicata ma non lo fa per ostentazione lui si nutriva di quella roba lì i suoi lui le sue letture preferite erano i poeti barocchi del 600 cioè era uno che era pieno di quella non lo faceva per dire guardate come son bravo ecco questa è una cosa è la prima cosa dalla quale alla quale io ho rinunciato il primo difetto che ho trovato nelle cose che scrive voi cioè l'ostentazione e poi l'altra cosa è la vi dicevo indipendentemente dal fatto che che si scrive cioè se c'è qualcuno che non è d'accordo sul fatto che tutte le scritture sono autofiction ne parliamo se no lo diamo per scontato e e passiamo al alla cosa successiva che ha a che fare con quel come che vi ho detto prima cioè non è tanto importante che cosa si scrive ma come lo si scrive e questa roba obiezioni sull'autofiction no e questa roba qua io io mi ricordo è fatto vabbè abbiamo tutti abbiamo la nostra vita è una storia la vista cioè quella roba lì quel libro lì cioè se voi andate uscendo di qua o insomma andate a Torino c'è lo stesso ci sono gli stessi testamenti che ci sono a Napoli cioè se uscite andate nel posto che non so come si chiama se conoscete un notaio se hai telefonato un notaio gli ho chiedete e compulsate lì dentro ci sono dei libri strategici c'è un libro strategico bisogna solo capire cioè bisogna scartare le cose che non che non sono interessanti che non sono così urgenti e così disperate come quella roba lì e tirarle fuori il problema non è di storie siamo pieni il problema è togliere le storie che non vanno ecco non trovare delle storie siamo siamo pieni di storie e io quando io mi ricordo io ho tutti i libri che mi colpiscono io mi ricordo perfettamente il momento in cui li ho incontrati e mi ricordo facevo l'università a Parma alla fine degli anni 80 e c'è una mia insegnante di francese che è di Torino si chiama Mariolina Bertini che è una delle più note proustiste non so come si dice insomma esperti di Proust e ci ha parlato di un saggio russo di un scrittore russo che si chiama di un critico russo che si chiama Viktor Shklovsky e il saggio si intitola l'arte come procedimento Iskustva Kak Priomi in russo e io mi ricordo quando è un articolo del 1917 e quando nel 2016 io mi sono accorto che il giorno dopo che l'anno dopo sarebbe stato il 2017 non ho pensato che era il centenario della rivoluzione ho pensato che era il centenario di quell'articolo lì di Brodsky perché è un articolo fenomenale secondo me che ha cambiato un po' la critica letteraria e lui dice mettendo in evidenza lui ha tirato fuori questa categoria dello straniamento cioè che scrivere secondo lui vuol dire straniarsi è una parola che può complicare le cose perché c'è anche è anche una tecnica teatrale della quale ha parlato Brecht e sono due cose diverse lo straniamento di Tastoi che si chiama astragniegne in russo è una pratica cioè Tastoi dice praticamente provate a ricordarvi la prima volta che avete preso in mano una penna e che avete scritto e provate a paragonare l'impressione di quella prima volta lì con la milionesima volta che fate questo esercizio ecco scrivere nella vita quotidiana scrivere delle cose dei messaggi tutti i giorni è come prendere in mano la penna per la milionesima volta scrivere in campo poetico artistico un romanzo è prendere in mano la penna per la prima volta ed è questa roba qua di ritornare cioè è guardare il mondo come se lo si vedesse per la prima volta raccontare le cose come se le si vedessero per la prima volta lui fa un esempio e fa un esempio cioè si si lui è un grande appassionato di Tastoi e cita due cose di Tastoi la prima è un diario un passaggio dei diari di Tastoi dove Tastoi racconta che lui è nella sua stanza e sta mettendo in ordine la sua stanza e a un certo punto di fronte al divano non si ricorda se l'ha spolverato oppure no e si chiede ma io cosa ho fatto in quegli stanzi cioè tre minuti fa dove ero cioè se ho spolverato il divano e non me ne sono accorto è come se non avessi vissuto se non l'ho spolverato ma non mi sono accorto è come cioè la vita così inconsapevole cioè così la disattenzione il fatto di non essere presenti a noi stessi si mangia tutto l'automazione no e questo secondo Shklovski è il modo di vivere ordinario cioè io c'è una canzone di Annacci dove Annacci scrive mi guardi come si guarda un parente come si guarda un parente io ho vissuto per un po' con i miei genitori e non li cioè erano delle entità intorno alle quali da circunnavigare ecco cioè non erano cioè non è che io mi ricordo perfettamente io ho vissuto un po' con mia nonna mia nonna se devo con l'andare del tempo mi accorgo che mia nonna si chiamava Carmela è la protagonista della mia opera è la persona forse che ho citato di più e ho vissuto un po' con lei e una volta anche questa cosa me la ricordo perfettamente ero ero nella sua casa nella nostra casa di campagna io ero in sala e mia nonna è entrata all'improvviso e io subito come entrata non l'ho riconosciuta come nonna e e ho visto che era una donna che aveva il sangue che le scorreva nelle vene io quel momento lì non me lo dimentico mai più e perché non aveva Shklovski dice che le cose quando noi attraversiamo una stanza una città vittime dell'abitudine non le vediamo no sono è come se fossero imballate ecco quella volta lì io ho visto mia nonna senza il suo imballaggio da nonna ed è stata una cosa memorabile Shklovski dice che per scrivere bisogna fare così bisogna vedere le cose senza il loro imballaggio e fa un altro esempio sempre tratto da Tastoi da un articolo che si chiama Vergogna nel quale Tastoi dice Shklovski dice che lo straniamento consiste nel rallentare il riconoscimento e allungare la visione che detto così è complicato ma poi appunto fa questa citazione di Tastoi Tastoi in un articolo che si chiama Vergogna che è uscito nel 1860 forse in Russia dice ma perché da noi c'è questo modo crudele di punire la gente perché si prende uno lo si sbatte per terra lo si denuda lo si picchia con una verga sulla schiena nuda lo si picchia sulle natiche denudate perché per esempio non prendiamo uno spillone e gli trafiggiamo le carni ecco questa pratica qua di prendere uno denudarlo buttarlo a terra e picchiarlo con un bastone sulla schiena aveva un nome un nome si chiamava fustigazione ed era una pratica diffusa in Russia all'epoca e se avete nei romanzi russi dell'ottocento era la pena accessoria agli anni di galera uno veniva punito a tre anni lavori forzati e 40 fustate non solo all'epoca c'era la servitù della gleba in Russia e la fustigazione cioè il proprietario di servitù della gleba aveva il diritto di punire di 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 far fustigare un suo servo senza passare dal tribunale cioè no era una cosa che lui poteva fare c'era una c'era stata una lettera celebre della sorella del più grande scrittore russo vivente quando era vivente Nikolai Gogol sua sorella gli diceva ma io sono io Gogol era molto credente no e la sorella gli ha chiesto ma io come faccio a far fustigare non è anche lui un figlio di Dio non è un cristiano come me come faccio a ordinare a uno di fustigarlo e Gogol gli risponde in un modo che creò all'epoca in Russia un grande scalpo perché gli dice no ma te non devi cioè tu sei lì non perché hai deciso il tuo ruolo di proprietario della gleba non viene da te viene da Dio e quindi tu hai il diritto divino di farlo frustare questa all'epoca in Russia c'era questo dibattito sulla fustigazione era molto vivo quindi se Tastoy avesse scritto semplicemente ma perché da noi c'è la fustigazione tutti avrebbero capito e magari un lettore avrebbe detto ah Tastoy è contro la fustigazione io invece sono a favore no invece così senza nominare la fustigazione rallentando il riconoscimento subito un lettore non capisce che sta parlando della fustigazione rallentando il riconoscimento e creando delle immagini Tastoy fa vedere la fustigazione a quelli che credono di conoscerla gliela fa vedere come se la vedessero per la prima volta io quando un'altra passione che avevo da ragazzo oltre alla letteratura era i fumetti e mi piaceva anche disegnare mi piace ancora ma è una cosa che per fortuna non ho praticato e avevo comprato non so adesso non ci sono più non ci sono quasi più le edicole ma all'epoca uscivano queste queste dispense settimanali che te compravi un corso di disegno in 40 settimane ho comprato spendevi un capitale e alla fine avevi una cosa da rilegare oltretutto però e io ho comprato il primo il primo il primo fascicolo diciamo così e io ero uno a me piaceva mi piaceva disegniamo un'ora al giorno copiavo dei fumetti che avevo Asterix e Corto Maltese mi piaceva e mi sembrava di avere una buona mano però non avevo nessuna competenza io ho fatto ragioneria non ho mai studiato disegno tecnico e chiaroscuro non so niente non sapevo niente allora e non so niente neanche adesso e io mi aspettavo da un corso che mi insegnasse la tecnica ecco e questi del corso c'è un testo il primo testo diceva che come se si aspettassero le mie aspettative dicevano noi vi insegneremo la tecnica però la cosa più importante che vi insegneremo è a guardare io avevo 15 anni e quando ho letto così mi sono offeso perché ho pensato ma io sono 15 anni che guardo cioè dovete arrivare voi a insegnarmi a guardare e loro come se come se prevedessero la mia obiezione proponevano ai lettori di fare una prova e dicevano provate a pensare a una persona che in questo momento non è con voi ma che voi vedete spesso e io ho pensato al mio compagno di banco che si chiama Bruno Pelosi che faccia ha la faccia il disegno della faccia è più ovale o più tondo a che distanza è l'attaccatore dei capelli dalla radice del naso la linea delle sopracciglia è sopra o sotto la punta delle orecchie gli occhi sono ravvicinati o distanziati io non avrei saputo rispondere a nessuna di quelle domande per Bruno e sapevo che aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri non avrei saputo il giorno dopo perché io non lo vedevo Bruno lo riconoscevo cioè Bruno era di fianco a me col suo imballaggio da compagno di banco che mi impediva di vederlo il giorno dopo sono andato a scuola ho visto Bruno e mi sono accorto che aveva gli occhi molto ravvicinati è una delle persone con gli occhi più ravvicinati che io abbia mai visto ho visto una bibliotecaria in provincia di Milano qualche anno pochi anni fa che aveva gli occhi più ravvicinati di Bruno ma insomma ecco questa guardare è la cosa più difficile che deve fare uno che si mette a scrivere come voi e questa cosa non riguarda soltanto la scrittura riguarda anche la fotografia l'arte in generale secondo me cioè la cosa fa l'arte è difficile da dire ma vi faccio un esempio e poi sono già le 12.10 vi mi dite vi chiedo di di farmi le domande adesso vediamo se lo trovo questa cosa io sapete chi è Luigi Ghirri? ecco un po' di anni fa io ero su un autobus un torpedone a Bologna con il numero 14 mi sono sentito chiamare c'era su quest'autobus Ermanno Cavazzoni che mi ha detto che lui la prima cosa che ha pubblicato era una cosa dentro un'antologia che si chiamava Diario in Italia che lui aveva fatto insieme a Luigi Ghirri c'erano c'erano scusate c'era un volume di scritti e un volume di fotografie e Ghirri diciamo così aveva chiesto dei fotografi di andare in giro per l'Italia e fotografare l'Italia sulla via Emilia scusate era viaggio sulla via Emilia e Cavazzoni e Celati avevano chiesto agli scrittori di fare la stessa cosa e allora siccome era il trentennale o qualcosa del genere Di Ghirri mi ha chiesto facciamo un'antologia rieditiamo vuoi scrivere qualcosa e io ho scritto questa cosa qua che vi che vi leggo allora che comincia più o meno così mi hanno chiesto di scrivere un pezzo che parli dell'Emilia o della via Emilia e a me viene da dire che per uno che abita in Emilia scrivere un pezzo che parla dell'Emilia o della via Emilia mi sembra una cosa difficilissima mi è venuto in mente il periodo in cui una rivista di viaggi mi ha mandato nel Mississippi a scrivere di blues e io ci sono andato e molti di quelli che avevo incontrato per strada ai quali avevo chiesto cosa pensavano del blues mi avevano guardato stupiti e poi mi avevano detto che loro del blues non ne pensavano niente che ascoltavano della musica tutta diversa e io mi ero sentito come credo sarebbe sentito un americano che fosse venuto in Emilia convinto che tutti gli emiliani ascoltassero il liscio bevessero l'ambrusche mangiassero i tortellini quando si fosse accorto che c'erano degli emiliani che il liscio non lo ascoltavano e che erano stemmi e vegetariani mi era tornato in mente un esempio che mi ha fatto un mio amico di Bologna si chiama Jean Talon di quegli antropologi bolognesi che qualche decennio fa hanno invitato un cantastorie senegalese uno che scriveva delle storie poi le metteva in musica e le cantava ai suoi concittadini l'hanno invitato a Bologna e gli avevano detto di osservare i bolognesi e di scrivere poi una canzone su di loro da cantare ai senegalesi e lui tra le altre cose aveva scritto che in Europa al mattino cedeva una cosa stranissima c'era un sacco di gente che andava in giro legata ad un cane che per uno che non ha mai visto un guinzaglio e non ha idea neanche di cosa sia è esattamente quello che succede tutte le mattine anche sotto casa mia c'è da dire solo che vederlo è difficile perché io sono così abituato ai guinzagli che ho smesso di vederli e con le miglia mi sembra succede la stessa cosa è per ovviare a questa mancanza di intelligenza nel mio sguardo che secondo alcuni critici e alcuni teorici dell'arte esistono l'arte e la poesia l'arte scritta una volta un filosofo che si chiama Agamben non serve per vedere per rendere visibile l'invisibile serve per rendere visibile il visibile e questa cosa con le miglia a me è successa grazie alle fotografie di Luigi Ghirri prima di vedere le foto di Luigi Ghirri se pensavo all'Emilia io oltre che al ballo liscio all'ambrusco ai tortellini pensavo a poche cose ai pioppi e al fiume Po prevalentemente c'erano queste immagini che non avevano niente a che fare con le mie giornate abito lontano dai pioppi e dal Po ma che erano da qualche parte nella mia testa dentro una cartellina con su scritto Emilia dopo che ho visto le fotografie di Ghirri io mi sono accorto che in Emilia c'erano anche i distributori di benzina i semafori le fermate dell'autobus la neve i bambini che si vestono da Batman per il carnevale i gommisti le saracinesche le pubblicità il cielo lui Ghirri con le sue fotografie è come se avesse preso con due dita l'imballaggio che avvolgeva l'Emilia sotto casa mia e avesse tolto dal loro imballaggio che li rendeva invisibili gli distributori di benzina i semafori i fermate dell'autobus la neve i bambini che si vestono da Batman per il carnevale i gommisti le saracinesche le pubblicità e il cielo che c'erano sotto casa mia e io adesso è incredibile riesco a vederli e la cosa è ancora più incredibile se si considera che Ghirri sotto casa mia probabilmente non c'è mai neanche passato voto cosa dite? abbiamo parlato di autofiction in un certo senso ditemi qualcosa per cortesia qualsiasi cosa che non vi interessa cose che non vi sembrano giuste o che vi sembrano giuste se avete bisogno se avete bisogno del microfono c'è qua dai è difficile la prima anche una stupidata sono contento però te ce l'hai una storia da raccontare bene siamo d'accordo bene sono contento sono contento e prego dimmi no no se uno sta scrivendo un romanzo che non ha un finale è una bella domanda grazie io allora io facendo questo mestiere ho conosciuto Carlo Lucarelli che conoscete anche voi una volta eravamo su un treno e lui si è messi a parlare di queste cose e lui mi ha raccontato del primo giallo che ha scritto no e quel giallo lì lui ha cominciato e sapendo come sarebbe un giallo e aveva il colpevole solo che a metà del giallo si è accorto che il colpevole che aveva lui non era il colpevole del giallo e allora che era un altro a tre quarti del giallo si è accorto che non era neanche l'altro e lui mi ha detto che noi non ragioniamo con la testa ragioniamo con i polpastrelli e secondo me c'ha ragione cioè la pratica cambia le cose e pensa io una cosa che io vedo questi sono adesso voi siete di un'altra generazione questi qua sono i miei strumenti di lavoro sono tre taccuini uno piccolo da tenere in tasca uno grande da 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 tenere nello zaino è uno che è una specie di agenda e io senza questa roba qua non sto bene e a me piace così una volta sono andato sempre su un treno lungo andavamo ad Auschwitz per i viaggi della memoria è lì che ho conosciuto Carlo e che è avvenuta questa conversazione e un altro anno è venuto il mio amico che adesso è morto che è un grande regista teatrale che si chiama Gigi Dallaglio e a me ogni tanto quando mi viene in mente una cosa mi segno no? perché i primi tempi quando ho cominciato a scrivere a me succede spesso che le cose da scrivere ti vengono in mente quando non stai scrivendo no? c'è una cosa che dice che dice come si chiama? adesso non mi ricordo il nome del regista vabbè un regista americano che dice che le idee più 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 belle a lui gli vengono quando va in bagno e questa cosa qua è vera quando tu smetti di ebbè c'è anche un matematico si chiama Poincaré che lavorava delle equazioni molto difficili e non ci saltava fuori e un fine settimana ha detto basta io vado a fare una gita ed è è montato su una corriera oggi è una giornata e ha detto lui ha raccontato che in un libro che si chiama la scienza dell'ipotesi che ha messo il piede sul gradino e gli sono venute in mente quelle equazioni e ha fatto la sua gita è tornato ha verificato ed era così e e allora a me succedeva spesso che andavo io giro in bicicletta andavo in bici mi veniva in mente un'idea pensavo fantastica adesso quando faccio i miei giri poi torno a casa e la schivo e tornavo a casa e non mi ricordavo mai quella cioè mi ricordavo di aver avuto un'idea fantastica ma non mi e lì adesso io mi fermo io freno tiro fuori il tacquino me lo segno e questa roba qua è fondamentale e soprattutto per la gente come me che non si ricorda perché sta dicendo questa cosa però questa pratica qua cioè scrivere cambia davvero cioè le storie c'è una mia amica cioè c'è quella cosa ne parlavamo ho presentato il libro di una mia amica l'altro giorno a Bologna che è un libro che io avevo seguito anche durante la scrittura e lei a rileggerlo sembra proprio che la storia fosse quella è come quella cosa che dice Michelangelo che in un pezzo di marmo la statua c'è già dentro te devi solo togliere le cose che sono di troppo però non lo sai prima mio nonno si sbagliava mio nonno era era bravissimo era un muratore era un bravissimo muratore aveva gli volevo gli voglio molto bene però non aveva mai scritto un romanzo e non lo sapeva ecco non sapeva come si scrive quindi quella cosa lì ci vuol del coraggio e ci vuol del e non solo io c'è un grande scrittore si chiama Viktor Shklovski l'ho citato più volte quel critico dello straniamento lui è anche un grande scrittore lui ha scritto un libro bellissimo secondo me un romanzo che si chiama Zo ho lettere non d'amore e è pubblicato anche questo da Sellerio c'è una bellissima traduzione in Sellerio se lo comprate prendete quella perché ce n'è un'altra in giro ma meno bella e lui negli anni venti a Berlino si innamora di una donna e le chiede chiede a questa donna il permesso di scriverle delle lettere e questa donna gli dà il permesso ma gli dice non mi scriva d'amore però e lui che è innamorato di questa donna qua non può c'è lo straniamento cioè parlare d'amore senza mai nominarlo ecco e quando quando Shklovski ha consegnato questo libro qua al tipografo dice che era un libro che scottava dal tanto amore che c'era dentro anche qui e non mi ricordo perché ho citato scusate sto peggiorando non ero così la settimana scorsa però ci vuole è un'impresa difficile ed è una cosa che per trovare delle cose potenti bisogna cioè ha delle ripercussioni ecco anche su ci si fa male ci si fa male non solo in riferimento alle ai pareri che 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 ci feriscono ecco degli altri che arrivano sicuramente ma anche solo il fatto di leggere ad altavoce una cosa vostra di fronte a degli sconosciuti è un'esperienza difficile cioè ci vuole del coraggio a fare cosa io mi ricordo delle esperienze primi tempi che avrei voluto sprofondare cioè avrei voluto è una cosa molto innaturale però è una cosa che bisogna affrontare cioè per avere però succede che quando poi uno scrive una cosa bella a me mi sembra essere più più a me mi sembra essere più leggero proprio cioè è proprio una cosa che io pagherei per fare quel mestiere qua e mi pagano è una cosa incredibile è una cosa incredibile incredibile io mi aspetto sempre che arrivi qualcuno che mi ah ecco perché parlavo di Shklovsky Shklovsky diceva io ho letto che lui tutte le volte che comincia a scrivere un libro ha l'impressione che sia un'impresa al di sopra delle mie forze io quell'impressione lì ce l'ho sempre e quando ho letto questa cosa qua di Shklovsky mi sono detto vedi meno male che ho questa impresa e adesso quando comincio un libro e ho quell'impressione non ce la farò mai questo pensiero qua non ce la farò mai io sono contento vuol dire che sono sulla buona strada se fossi noi facciamo un mestiere che se uno è convinto di essere capace di farlo è la fine se uno si convince di essere bravo è la fine noi siamo sempre lì siamo su una corda cioè che dobbiamo rischiare di cadere da un momento deve essere urgente è disperata la scrittura altrimenti non vale tanto non vale tanto secondo me e la cosa io nel venire qua in treno ve ne siete accorti la mia principale preoccupazione era non pensare alle cose che vi avrei detto perché secondo me funziona meglio se se non si sa cioè poi le cose c'è bisogno avere fede fiducia nel fatto che le cose succedono io quest'anno io sono molto legato alla Russia e per quello che è successo in Ucraina ho sentito nell'ultimo anno e mezzo un sacco di discorsi e ho sentito un signore non mi ricordo l'ascoltavo nelle cuffie e questo signore qua raccontava di un suo insegnante all'università che era un insegnante che lui adorava e a un certo punto era entrato il preside di facoltà e aveva chiesto questo insegnante professore non so Mieletinski non mi ricordo quante ore ci ha messo a preparare questa lezione e lui era rimasto un po' così e poi aveva detto io è tutta la vita che preparo questa lezione ecco chissà perché ho detto questa cosa però il fatto se no se tu ti proponi di fare una cosa facile vai a giocare in borsa cioè è proprio un'altra cosa tra l'altro è un mestiere cioè ci sono un sacco di è difficilissimo come venuti in mente una cosa brutta no venuti in mente una canzone di Gianni uno su mille ce la fa che è una canzone più o meno è vero ma la cosa importante non è neanche farcela no e poi io una volta stavo per uscire un mio romanzo che era tipo il quarto romanzo che ho scritto che si chiama Grandi Ustionati che parla di un'esperienza anche quella lì è autofiction è una cosa che a me è successa davvero che mi sono ustionato e lo raccontavo in un romanzo sono andato alla libreria a Feltrinelli che c'è ancora in centro a Bologna e ho incontrato Stefano Benni che e ci siamo salutati e mi ha chiesto come stai e io gli ho detto guarda sono agitato perché tra quattro giorni sta per uscire un romanzo e lui mi ha indicato una pila di salta tempo che era un libro che mi ha detto non dirlo a me e cioè Stefano Benni per me vendeva centinaia e ho pensato vabbè non finisce mai questa cosa qua ed è sempre così quando esce un romanzo quando usciranno i vostri romanzi il primo ma anche tutti gli altri voi sarete in una condizione di fragilità che non avrete mai mi auguro per voi sperimentato prima e può succedere e la paura che quello che avete scritto provochi delle reazioni sarà forte io sono sono sempre ho sempre paura che mi che mi torni indietro della roba che mi ferisce ed è successo diverse volte ecco fa parte del gioco però il bene che torna però il rischio è quello lì ecco vi siete messi su una strada pericolosa o vi state per mettere su una strada pericolosa però se se è vero siete delle persone coraggiosi secondo me anche se non fate tante domande prego no io non ho mai non ho mai scritto prima cioè scrivo delle cose ma così scrivo dei diari così ma non scrivo mai per fare cioè io ho smesso di scrivere a otto anni quando quando mio nonno mi ha detto quella cosa lì io non ho più scritto fino ai 33 e dopo disciplinarmi era la cosa io sono molto indisciplinato sono molto disordinato però lì non c'era bisogno di disciplinarmi c'era bisogno di di frenare cioè quelli che mi guardavano da fuori la mia fidanzata voleva che scrivessi meno ecco lì era proprio arrivato a un punto che non che non che non appunto come dicevo prima bisognava abbattermi per impedirmi di scrivere non c'è e da lì poi non è dopo ci sono io ho letto anche on writing di come si chiama chi? chi? di Stephen King sì grazie e e lui dice di scrivere sei ore al giorno per me quella roba lì non cioè non è non è che puoi scrivere sei so che Alberto Moravia scriveva al mattino io scrivo alle tre cioè quando quando poi dopo ognuno mi dipende dalla 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 se io scrivessi tre ore sei ore al giorno sarebbe una punizione cioè io posso scrivere dodici ore al giorno in un giorno che ne ho voglia oppure però però non c'è quella roba lì di timbrare del cartellino ecco c'è come mi succede in tutte le cose che faccio io ma perché sono io che mi riduco a dovere scrivere quando prima parlavo dell'urgenza mi è venuta in mente una volta che io dovevo appunto come come questo è un discorso che non ho finito che dovevo dire prima come come questa una volta io dovevo scrivere un articolo e avevo tipo sei ore e a una certa ora del giorno dovevo andare a prendere mia figlia a scuola e io ho cominciato a scrivere mezz'ora prima dell'ora cioè nel momento in cui perché è come se si fosse accesa una lampada dell'urgenza e lì sono riuscito prima ho ho ciappinato in parmigiano c'è un verbo che si chiama tintognare che non credo tintognare significa fare delle cose e non combinare niente cioè ma senza il volere di combinar senza voler combinare cioè fare così fare delle cose per fare io sono bravissimo a tintognare e non sono ma sono talmente perverso che credo che tintognare mi serva che che tintognare sia un modo per far scattare quella disperazione quell'urgenza quell'impressione di non essere capace no? che secondo me sono il segno che qualcosa va sì sì a sceglierne una io a me è capitato di lavorare su più cose contemporaneamente lo sto facendo anche adesso però io riesco a farne una non perché ma perché sono commissioni che è una cosa diversa io la cosa che volevo fare all'inizio mi metto nella condizione che io vi do del tu diamoci del tu tutti vi dispiace darmi del tu così ho l'impressione io quello che ma a te piacciono i romanzi o perché se uno vuol scrivere dei racconti forse va bene avere tante idee tutte insieme cioè lavorare un romanzo è una cosa che a me mi cioè io quando scrivo un romanzo però la cosa bella della letteratura è che non c'è una regola cioè non è che si debba fare in un modo come faccio io ognuno poi fa deve anche conoscersi ecco questa è anche una pratica che ti porta come tutte le pratiche che ti porta a sapere come sei il rischio è che questo passare da una cosa all'altra sia una scusa per non fare niente quello lì è il rischio però prova a sceglierne uno e andare avanti perché all'inizio tante idee sembrano buone poi il problema è quando arrivi a metà se non crolla il tetto ecco se a te interessa una cosa grossa da scrivere prova a finirne una poi magari anche portando avanti le altre però io sono abbastanza monogamo in questo senso riesco a lavorare a una cosa alla volta poi se ci sono delle altre commissioni interrompo come mi sta succedendo adesso io devo consegnare un romanzo a Mondadori in aprile e adesso non sto lavorando a quello perché devo consegnarne uno alla terza in novembre che è arrivato dopo ma che cioè non un romanzo ma un libro e lavoro a questo e quello là ce l'ho in stand by ma secondo me dopo ripartiamo però all'inizio ecco io siccome sospetto di me stesso mi verrebbe il dubbio se fosse la tua condizione che è un modo che tu hai trovato per non finire e perché finire una cosa e darla a qualcuno da leggere e dirgli questa è la cosa che ho scritto io ti piace? lì è durissima cioè come dicevo prima ci vuole un gran coraggio però bisogna farlo se no siamo qua a far finta ecco invece deve essere una cosa vera ultima domanda hai letto tradotto e scritto tanto di letteratura russa e mi chiedevo se ti sei mai domandato perché sei andato verso quella cultura verso quel modo di narrare verso quei contenuti io me lo sono chiesto me l'hanno chiesto e non capisco cioè non lo so una volta me l'ha chiesto un'italianista russa che si chiamava Anna Jan Polska e alla fine di un'intervista lei mi ha chiesto ma perché ti piace così tanto la Russia io ho risposto con una risposta dalla pancia senza l'intervento alla testa e ho detto la Russia mi piace perché fa paura e secondo me a me piacciono le cose che fanno paura ci sono dei libri già nicelati che mi fanno paura tanto che sono belli la mamma di mia figlia che si chiama Francesca mi fa paura a me le cose che mi fanno paura mi piacciono proprio e anche la Russia mi piace e non so perché credo che sia non lo so io quando sono stato a Mosca la prima volta Mosca per me è la città più bella del mondo io sto bene lì non so perché proprio io insegno alla Yulma a Milano è una studentessa russa quando noi parliamo in russo è una lingua fantastica che mi piace poi dopo per me vale perché io ho studiato anche francese perché non mi fa lo stesso effetto non lo so e non dico che la lingua russa sia meglio della lingua per me sì però non è una cosa cioè io non sono quello che mette i prezzi alle cose però per me è così c'è davvero il sentimento di un posto a me piace io sono di Parma e non mi piace il mare non mi piace la montagna mi piace la pianura e la Russia per me è la realizzazione è un'enorme pianura infinita dove tutti parlano la stessa lingua che è una lingua parlata da millenni non ci sono i dialetti in Russia e dove è una lingua che ha un grado di cioè si possono esprimere cose di una tenerezza e di una volgarità estreme e con una musicalità che a me mi incanta però la risposta vera è non lo so grazie Paolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti